In tanti di fare cosa c'è nel mio zaino, ho deciso appunto di mostrarvi tutto quello che ho comprato per il ritorno a scuola. Allora, questo è il mio zaino, adesso ve lo mostro meglio tutto. Ve l'avevo già fatto vedere prima di iniziare le medie. Ho sempre tenuto questo e non l'ho cambiato, perché ho deciso che comprerò uno nuovo quando arriverò alle superiori. E' della Seven e almeno a me piace molto e uno dei motivi è questo, perché c'è appunto scritto Music Star con questi caratteri tutti particolari, molto belli. Per renderlo ancora più cute ho aggiunto queste faccine, questi emoji a forma di peluche, di cui ho fatto un po' di tempo fa il video, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. C'è appunto questo emoji che sorride a denti stretti e quest'altra che fa la linguaccia. Mentre qui ci sono delle stelline, delle saette e un'altra faccina che in questo caso però è arrabbiata, infatti è tutta arancione rosso. In questa tasca tengo di solito la merenda e l'acqua e per il momento c'è solo l'acqua. Mentre qua sopra solitamente metto i fazzoletti o magari un gel per le mani, solo che per il momento non c'è niente. Ok ragazzi, io direi di aprire subito lo zaino e vedere cosa c'è dentro. Allora, in questa tasca c'è l'astuccio di Alex & Co. con appunto Emma, Alex & Nicole e anche di questo ho già fatto la recensione, quindi magari potete andarla a vedere. E dentro ho voluto mettere i colori, sia a spirito che a pastello e qualche pennarello. Infatti ho messo questo qui, nero, e un altro dorato che però adesso... Ah, eccolo, non lo trovavo. E quello era il mio primo astuccio. Poi, sempre di Alex & Co. ho messo il diario, che più che un diario è un'agenda. E qui metterò tutti i miei impegni, scriverò tutti i miei impegni, in modo tale da ricordarmeli bene. E anche di questo, insieme all'astuccio, ho fatto la recensione. Bene, adesso passiamo a quest'altra tasca. Allora, lì dentro tengo solitamente i libri e i quaderni. Adesso vi farò vedere alcuni dei quaderni che ho comprato per questo nuovo anno. Vi mostrerò i più carini. Allora, c'è questo, con su scritto Hollywood Milano, molto carino. Mi piaceva molto perché è un po' tigrato, anche perché ha scritto Hollywood e era troppo carino. Poi c'è questo, sui toni del fucsia e anche con qualche macchionina bianca, che richiamerebbe anche le tute che si usano di solito nell'esercito, solo che in quel caso sono verdi, qui più sui toni del fucsia. E anche questo era molto carino. Poi ne ho preso uno riciclato, con questi fiorellini molto carino, ecco appunto, ed è della Flowers Pignature. E per il momento tutti quelli che vi avevo fatto vedere erano a rigli. Adesso passiamo a quelli a quadretti, che sarebbero appunto questo, che è bellissimo perché è questa tipo modella, molto molto bella, e mi piaceva troppo così ho deciso di prenderlo. E poi quest'altro, che è super carino, con questa ragazza che si sta facendo una foto, insomma, con il suo mini skateboard. Poi vediamo cos'altro c'è. Allora, ho queste penne, che ce le ho dall'anno scorso, che praticamente si aprono da questo pulsante, così, e ci sono diversi colori. Alcuni li ho persi e li ho sostituiti con colori che avevo già. Però, insomma, ho cercato di riprendere l'arcobaleno, insomma, una specie di sfumatura. Spero sia venuta bene. E sono molto carine e utili. Mi piace molto decorare, per esempio, anche, non lo so, qualche disegno, o, insomma, anche il diario con quelle. Dopodiché c'è il mio diario BU, che appunto è quello dove scrivo i compiti e tutto. Anche di questo ho fatto la recensione, quindi se volete potete andarla a vedere. E infine c'è il mio astuccio. Il mio caro e vecchio astuccio. In realtà non è vecchio, perché l'ho comprato da poco. Però, di solito si dice così, perciò lasciamo stare. Questo ve l'avevo già mostrato insieme al diario BU, solo che era ancora vuoto. Adesso vi mostrerò tutto quello che ho messo all'interno. Allora, per abbellire, prima di tutto, la cerniera, ho messo questo portachiavi, molto carino, a forma di pesce biscotto, e poi queste due stelline e questo gelatino, che sono praticamente insieme. Ed era molto carino e volevo un po' renderlo ancora più carino, perché dall'esterno comunque è bellissimo. Poi, se però lo apriamo, vediamo subito cosa c'è dentro. Vi avverto che regna il caos, appunto. Allora, io direi di iniziare da questa tasca. C'è il mio temperino, che ho comprato nuovo, perché non so perché questi qui si rompono sempre quando toccano le mie mani. Cioè, quando li tocco, non so perché. L'ho sempre preso verde oppure fucsia. Questo ho deciso di cambiare e prenderlo a ragione. Poi ci sono i miei quattro evidenziatori della Stabilo Neon. Sono bellissimi così, con questa forma, e mi piacciono troppo. C'è arancione, fucsia, giallo e verde. Poi la gomma. Due matite, una HB2 e l'altra 5H. Varie penne nere e rosse, che tengo sempre di riserva, perché non si sa mai. Ah, e poi c'è questo pennarello nero buonissimo, che serve appunto per ripassare i contorni. E io lo adoro, tipo... Ok, mi è appena caduto. L'immancabile penna a forma di siringa, che anche se praticamente non funziona più, visto che ho usato tutto l'inchiostro, la tengo sempre con me, perché è troppo carina. Dopodiché ho preso questa colla, dove c'era il Minions, perciò dovevo assolutamente prenderla, perché era troppo cute. E poi c'era Bob, e io amo Bob. Dopo... Vabbè, la scolorina e le nostre amate forbici rosse. Poi, alcune gommine dei Minions. Non chiedetemi perché le ho volute mettere, mi sembravano carine. Le ho volute tenere un po' come portafortuna. Uno squish a forma di ciambellina antistress per le verifiche. Quindi durante le verifiche, quando si è stressati, si fa così e si calma. Poi, uno skateboard dei Simpson, perché era troppo carino. Mi piaceva troppo, lo dovevo assolutamente portare a scuola. Una gommina, che è un doppione di quella forma di emoji un pochino rovinata. Vabbè. E infine, questo, che sarebbe una gomma a forma di luci della labbra, che era troppo, troppo carino, e non potevo non prenderla. Bellissime. Tra l'altro, ho scoperto che si può anche togliere. Quindi, volendo, uno la può utilizzare, però io non la utilizzerò mai. Poi, dopo di che, dopo di che, dopo di che, qua, ho messo una sfiletta a forma di occhiali. Molto carina, mi piaceva tantissimo, così ci tenevo a metterla. Dei post-it e tre penne super cute, che non potevo non mettere. Mentre qui, una matita, che ancora non ho utilizzato. Un braccialetto. E poi, la collana con il diamante di Minecraft, che è più un portafortuna. Infatti, la tengo sempre qua, e adesso si era tutta grovigliata. Eccola qui. E, per finire, qui, non tengo niente di che, solo la gommina a forma di cupcakes, molto tenera. E delle spillette portafogli, in caso debba tenere insieme più fogli. Eccole. Molto, molto cute, a forma di coniglietto. Bene, ragazzi, spero che questo video del Back to School vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti se vi piace tutto quello che ho messo nel mio astuccio. Se vi piacciono i quaderni che ho acquistato. Se vi piace lo zaino in generale. Scrivetemi magari nei commenti cosa avete messo nel vostro zaino. Se avete messo le solite cose che si mettono a scuola, oppure per la scuola, oppure qualcosa di diverso, qualcosa di un po' strano. E passiamo ai saluti. E passiamo ai saluti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!